A causa dell'indisponibilità dello stadio Pastena di Battipaglia, la battipagliese rende noto che la gara di campionato contro l'Audax Gervinare, in programma domenica 3 marzo alle ore 15, è valevole per la 25esima giornata del campionato di eccellenza Girone B, si disputerà presso lo stadio Paolino via di Buccino. Questa è la seconda gara casalinga che la battipagliese è costretta a giocare a Buccino, in attesa che il Pastena possa essere disponibile per la prossima gara in casa. Grazie a tutti